Ciao amici di Rocca e Reporti, io sono Marte Delicolli e questo è Italia Rocca. Ma passiamo subitamente a quelli che sono i appuntamenti live di settimane. I due novembre sorreranno questa sera a Piazzale del Verano, mentre domani sarà la volta dei diuretica a Fiuggi, mi raccomandoni i pisciate. E per i fanci dei giornalisti ricordiamo che suonano e questo mi sembra già abbastanza. Ma passiamo a quelle che sono le notizie croccanti stuzzicanti. Dopo le incomprensioni avute in sale ad incisione, i vomiti ci riprovano e si incontrano, ma fanno finta di non vedesse e si rimelano. E prima di salutarci ricordiamo anche quelli che sono gli eventi storici che hanno impressionato questa Italia Rocca. Il 2 ottobre 1988 i Pinf Floyd contattano uno dei gruppi più importantissimi di Italia Rocca, i Buzziconi. Inizia così una collaborazione che poi sfocerà nel grandissimo concerto del 15 luglio del 1989. Infatti vi ricordate quel maiale gigante volante che stava un po' sul mare, un po' sul parco, un po' sul parco, un po' sul mare? Beh, quell'anno gonfiato i buzziconi. L'ho detto tutto. Bene, per quanto riguarda Italia Rocca è tutto. Bella, amici di Rocca e Riporti, un'altra volta.